Una presentazione Olympus Mew, l'ultracompatta. Salve ragazzi, siamo in vacanza. Siete stanchi della solita vita? Volete prendervi una vacanza dalla noia e dai problemi di ogni giorno? Italia 1 ha proprio ciò che fa per voi. Matematico, no? Passate una serata esplosiva e divertente con i ragazzi di college. Domani sera alle 20 e 30 su Italia 1. Olè! Can anybody find me? Grande cono, maxi cono. Insalatissime rio mare. Con verdure sceltissime, tonno tenerissimo, olio d'oliva purissimo. Un gusto, gustosissimo! Insalatissime rio mare. Al mai, ai fagioli, messicana. Naturalmente gustosissime. E con soli 8 punti, in regalo il vero pallone da Beach Volley. Il normale sapone può inaridire la pelle. Ma oggi c'è nuovo infasil detergente neutro. Con i suoi detergenti delicati è arricchito con il 25% di oli emollienti e idratanti. Test clinici dimostrano che protegge l'idratazione della pelle. E non irrita, neanche la più indifesa. Con infasil senti la pelle pulita, idratata, protetta. Infasil detergente neutro. Tanto è delicato, tanto protegge l'idratazione. Anche liquido, viso, doccia schiuma. Beh, io mi trovo bene con la polvere, anche se non mi risolve l'unto. Così poco di questo nuovo ultraliquido può darle risultati migliori della polvere. Lo devo provare. La signora non sa di avere il nuovo Dashi ultraliquido. Sentiamo cosa ne pensa. È venuto tutto benissimo, bianchissimo. Ma anche mia mamma, lei che usava sempre la polvere, mi ha chiesto una veramente un liquido. E l'ho sorpresa. Con questo dosatore ho messo il prodotto sul collo, ho messo la fincina in lavatrice. Mi fa vedere come è? Assolutamente, bianchissima. Mi deve dire come si chiama. Nuovo Dashi ultraliquido. Veramente? Bianchissimo. Provato io, questo me lo riprendo. No, questo me lo tengo io. Nuovo Dashi ultraliquido con più forza concentrata. Più bianco non si può. Con uno come lui, abbiamo imparato che per navigare insieme, l'importante è sentirsi insieme. L'altro azzurro. Quel grande gusto che ci unisce. Oh yeah! Per trattarvi meglio, abbiamo maltrattato la lanza. Hyundai Lantra 1.6, 16 valvole, catalitica. E prova dopo prova, la Lantra si è dimostrata così affidabile da meritarsi una garanzia lunga tre anni. Oh yeah! Trattatevi meglio. Trattatevi Hyundai. Malizia freschezza. L'uovo deodorante naturale, così fresco e delicato. Presente? Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io? Ma sei matta? Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio. La simpatia di Gerry Scott. L'irriverente comicità di Jenny Young. La bellezza delle ragazze di Miss Estadio. Le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar. Musica e non solo. Direttamente dall'Africa, Festival Bar 92. Martedì alle 20 e 30, su Italia 1. Donne irresistibili, con un'indomabile voglia di libertà. Info, presenta, Free Spirit. 14 protagoniste per un'estate musicale, nel segno dell'orizzonte infinito. La placca è una delle principali cause dei problemi dentali. Ogni giorno cresce sui tuoi denti. Per combatterla devi lavarli bene. Ma spesso non ci riesci, specialmente nei punti dove i denti sono difficili da raggiungere. Fai uno sciacquo con plaques di colgate prima di lavarti i denti e il tuo spazzolino rimuoverà più placca. Colgate Plaques. Ora più efficace che mai. Con uno come lui abbiamo imparato che per navigare insieme l'importante è sentirsi insieme. Nastro azzurro. Quel grande gusto che ci unisce. Caro Pantè, mia figlia era un vero maschiaggio. Ma da quando c'è Piero, sembra pensare ai capelli e giù di spesso l'iPhone. Tanto che si stavano indebolendo. Allora ho pensato a Pantè. Pantè Propi, il trattamento per mantenere i capelli sani. Shampoo e bassa malaprovitamina B che protegge il capello rinforzandolo. E shampoo dopo shampoo li sente più forti, sani, belli. Anche Piero l'ha notato. Grazie Pantè. Pantè Propi, il trattamento per mantenere i capelli sani. Vuoi dire per Chiara? È chiaro che io ti amo, Chiara, ed è chiaro che tu non mi ami, Chiara. Ma chiariamo una cosa, cara Chiara. Se tu ti approfitti per il mio amore per scarmi le mie chipster, neanche io non ho più. È chiaro, Chiara? Patatose da croccare chipster. Come te. Nessuno c'è. Il normale sapone può inaridire la pelle, ma oggi c'è nuovo Infasil Detergente Neutro. Con i suoi detergenti delicati è arricchito con il 25% di oli emollienti e idratanti. Test clinici dimostrano che protegge l'idratazione della pelle e non irrita, neanche la più indifesa. Con Infasil senti la pelle pulita, idratata, protetta. Infasil Detergente Neutro. Tanto è delicato, tanto protegge l'idratazione. Anche liquido, viso, doccia schiuma. Per riavere bianchissimo mucato molto sporco, cosa fai? Faccio ammolli, prelavaggi. Con Dashultra non serve. Basta il semplice lavaggio. Io credo solo quando ho provato. Allora, com'è andata con questo Dashultra? È andata benissimo. Guardi questo lenzuolo, un bianco splendido, brillantissimo. Questo Dashultra è eccezionale. Guardi anche questa federa. Qui c'erano macchie di trucco, rossetto, di quelli indelebili. Senza prelavaggio, senza niente, ed è perfetto. Decisamente candido. Tornerebbe al suo sistema tradizionale? No, guardi. Dashultra, più bianco non si può. Sei a Toledo. Vi presenta? American Summer. La tua estate in prima visione. Andremo a San Diego, va bene? No, no, sei giovane. È un lavoro duro, ma qualcuno deve farlo. Ma cosa? C'è l'olive? Ah! Ora basta! Ehi, amico, credo che le piaci. Le incredibili avventure di una folle. Folle estate. Vuoi venire a letto con me? In prima visione televisiva, Curve per i cose. Mercoledì alle 20 e 30, su Italia 1. L'irresistibile leggerezza di Woody. Il gusto è il saporito e leggero. Qualità Aya. Quando ho avuto problemi di tartaro, sono andata dal dentista. Ora sono puliti, ma da oggi usi un dentifricio specifico. Il tartaro è un problema per l'igiene della bocca. Così ho usato AZ Tartar Control. Protegge dalla carie, ma soprattutto rallenta la formazione del tartaro grazie al piroxen. E oggi mi sento più tranquilla. A ogni controllo. AZ Tartar Control. Tartaro sotto controllo per l'igiene della bocca. AZ. Anche il tuo dentista se ne accorgerà. freschi, frizzanti, leggeri. Vini maschio, frizzanti di qualità. Qualità Rossa Lavazza presenta il nuovo servizio Serie Oro. Un insieme perfetto dalle linee armoniose, bello ed elegante in tutti i dettagli. Te lo regalano le confezioni doppie e quadruple del tuo caffè Lavazza. Raccogli i punti diamante che trovi sulle multiple Lavazza. In più per te oggi c'è la straordinaria caraffa termica che rende ancora più ricco il nuovo servizio Serie Oro. Bellissimo! Le multiple Lavazza. Per gustare in ogni momento la tua miscela preferita e non restare mai più senza caffè. Oggi oltre al Dash di sempre c'è una novità. Dash Color. Guardate, un capo colorato. Così sporco. Riesce ad averlo davvero pulito? Il problema è o mi tengo la macchia? O se no mi tengo la rosca colorita. Oggi c'è una novità. Dash Color. Così più colore non si può. Lei ci crede? Non lo so. Com'è andata con Dash Color? Senta, favoloso. Non ci credevo proprio. Si ricorda? E ho ottenuto un pulito bellissimo. E anche i colori sono rimasti molto belli. Vivansci. Guardi questa tovaglia, lascio lei a dire. Il caffè che c'era tutto. Poi guardi il bianco. Poi l'altro giorno mio amico si è messa a fare il giardino. Siccome la macchinetta è vecchia ha scoppiato l'olio. E poi tutte le macchie qua davanti. Sulla maglietta verde. Eccola. È diventata pulita. Come lavavo prima mi venivano così. Allora, lei tornerebbe al sistema tradizionale. No, da oggi c'è anche Dash Color. Più colore non si può. Quale vodka glaciale? Di dove? Quale? Vodka glaciale. Come? Vodka glaciale. Un brivido che sale. Calcio spettacolo su Italia 1. Giovedì alle 20 e 30. Prima uscita stagionale della nuova Juventus. Gli uomini di Trapattoni hanno scelto la chiettia della Svizzera per il ritiro precampionato. E con la formazione elvetica del BN proveranno i primi schemi. BN Juventus. Giovedì alle 20 e 30 su Italia 1. Adesso, Dreher. E adesso con il grande concorso Dreher puoi vincere 15 bellissime Opel Corsa. E migliaia di altri fantastici treni. Adesso vinci. Adesso, Dreher. Grande cono. Maxi cono. Wow! Ora le mie unghie non si spezzano più. Il nuovo rafforzatore pastello di Deborah ha risolto il mio problema. Forza e colore finalmente sono insieme. Basta un gesto e le mie unghie diventano più forti, più lunghe e anche più curate. Nuovi rafforzatori pastello di Deborah levitamina. Forza e colore insieme. Finalmente. Perché Mastro Spazzolone Vileda arriva dove gli altri si fermano? Perché è snodato e ha le setole inclinate antiurto. Nuovo Mastro Spazzolone Vileda. Una marcia in più. L'irresistibile leggerezza di Woody. Il gusto è il saporito e leggero. Qualità Aila. La prima con tappo su vita e a vita. Quando c'è Bygon Protetti con Bygon. Dalla Bygon. Aerare il locale prima di soggiornarvi. La prima con tappo su vita e a vita. Venerdì alle 20 e 30 su Italiano. Buongiorno amici. Volete un mio parere sulla birra? Vi confesso che sono un po' di parte. Per me non esiste al mondo una birra più schietta, più sincera, più buona della Moretti. C'è solo una cosa che può migliorare questa birra, un amico. Perché bere Moretti in compagnia è la cosa più bella che ci sia. Birra Moretti. Viva la sincerità. Possono due ali risolvere ogni problema di pulito? Quelle di Silhouette Plus sì. Perché sono studiate proprio per darmi un'assoluta protezione laterale e per tenere l'assorbente fermo e teso. E con l'esclusivo cover dry di Silhouette ho comunque un asciutto straordinario. Silhouette sì, da quello che ho sempre cercato. Una protezione così asciutta e oggi anche così pulita. Nuovo Silhouette Plus. Addio bagnato. Benvenuto pulita. Quando c'è Bygon. Protetti con Bygon. Dalla Byron. Aerare il locale prima di soggiornarvi. Ora tocca a te. Eh sì. Con nuovo Vidale. Il bagno non è solo il momento più rilassante della giornata. È anche il più tonificante, il più fresco, il più profumato. Per donarvi un benessere completamente nuovo con tutta la vitalità delle sostanze di origine naturale. E domani? Domani c'è il dolce shampoo. Nuovo Vidale. Una vitalità assolutamente naturale. È il primo gel liquido per la vastomiglie. È finish gel liquido. Facile da dosare. Così sfruttile. Per un pulito senza traccia. È una brillantezza insuperabile. Una trasparenza mai vista. Finish gel liquido. Anche a limone. Ovunque sei, salviettine senza acqua della Linus. Le salviettine senza acqua sono grandi. Sono fresh. Grande freschezza. Grande praticità. Senza acqua fresh. Anche in confezione tascabile. Adesso con il grande concorso DREER puoi vincere 15 bellissime Opel Corsa e migliaia di altri fantastici premio. Adesso DREER. Questo film vi è stato presentato da Sottilette Light Craft. Grande il gusto e pochi grassi. Siete stanchi della solita vita? Volete prendervi una vacanza dalla noia e dai problemi di ogni giorno? Italia 1 ha proprio ciò che fa per voi. Matematico, no? Passate una serata esplosiva e divertente con i ragazzi di College. Domani sera alle 20 e 30 su Italia 1. Olè! San Susi, birra speciale col gusto musicale. Sei mai stato a Palmera? A Palmera, splendido sole fino a tardasera. Puoi gustare tutta la vostra sera. Palmera, il sapore che vuoi più. Palmera, palmera. Un dono di mare e il tono più buono. Energia da gustare. Palmera. Palmera, l'isola del sapore. Palmera, l'isola del sapore. Palmera, l'isola del sapore. Quando c'è Bygon. Palmera, l'isola del sapore. Palmera, l'isola del sapore. Palmera, l'isola del sapore.